Sapevi che Greta Thunberg ha lavorato in una miniera d'oro canadese nel 1898? Che il futuro è un luogo crudele e che esiste persino una foto dell'anno 2118? Da dove provengono tutte queste conoscenze? Beh, dalle persone che hanno viaggiato nel tempo, ovviamente. Ma come è possibile? I viaggi nel tempo sono reali? Ci sono persone tra noi che hanno intravisto un futuro lontano o un passato oscuro? Quello che stai per vedere ti lascerà incredulo, ma riusciremo a svelare il misterioso filmato? Resta sintonizzato e aiutaci a svelare questo mistero. Greta Thunberg Greta Thunberg è un'attivista per il cambiamento climatico, una spina nel fianco dei politici conservatori e un'ex lavoratrice di miniera. Ok, è vero, i giorni in cui la svedese scavava in cerca di oro fino a cadere sono ormai lontani. Quindi l'ambientalista dovrebbe aver avuto abbastanza tempo per riprendersi a sufficienza negli ultimi 125 anni. Ma anche se non crediamo che la foto del 1898 ci mostri la vera Greta Thunberg, non è incredibile la somiglianza tra la svedese e la ragazza fotografata? In questo contesto, alcuni credono che la figura di spicco del movimento Venerdì per il futuro abbia in realtà una macchina del tempo funzionante. Ma quali sono i fatti accertati che riguardano la fotografia? Come abbiamo detto all'inizio, la foto è stata scattata in Canada, più precisamente nel territorio dello Yukon. L'uomo che ha premuto il pulsante di scatto in quel momento si chiamava Eric Egg. In quel periodo, il fotografo documentarista svedese, realizzò una vasta collezione di persone che cercavano la felicità nell'aspro nord. Lo stesso Egg si cimentò anche nell'attività mineraria, ma non trovò mai l'oro, solo Greta Thunberg. La foto dal futuro A cosa servono tutte le affermazioni sui viaggi nel tempo se non ci sono prove? Anche Alexander Smith sapeva che l'esplosione del continuum spazio-temporale può essere supportata al meglio con una prova tangibile. Così è successo che Alexander non solo ha raccontato nei dettagli l'anno 2118 di qualche anno fa, ma ha anche tenuto la foto adatta nella macchina fotografica. Sebbene i contorni dello skyline siano certamente riconoscibili, gli edifici dal design strano e verdastro appaiono molto sbiaditi. Secondo Alexander, però, questo non è dovuto alla scarsa qualità delle fotocamere del futuro, ma al fatto che i viaggi nel tempo possono distorcere le fotografie. Anche il retroscena della foto è un po' contorto, perché Alexander proviene in realtà dall'anno 1981. Lee è stato catapultato nella nostra linea temporale come parte di un esperimento top secret della CIA, ma per dimostrare l'autenticità della sua storia ha fatto una breve deviazione nel ventiduesimo secolo per scattare una foto di prova. Lee ha anche appreso quali strade prenderà il corso della storia umana in futuro. Sempre a metà di questo secolo, la nostra Terra sarà visitata dagli alieni. Allo stesso tempo, la nostra specie deve affrontare molti pericoli. In primis, ci sono le conseguenze del riscaldamento globale, ma anche un non meglio specificato conflitto tra due società, che cambierà significativamente la vita della popolazione terrestre. Andrew Carlson Supponendo per un attimo di venire dal futuro e di possedere quindi una grande quantità di conoscenze, come le useresti? Per Andrew Carlson la risposta a questa domanda era ovvia. Nel 2003 ha investito 800 dollari nel mercato azionario e due settimane dopo era più ricco di ben 350 milioni di dollari. Poiché le autorità hanno comprensibilmente intuito un caso di insider trading illegale, Andrew è stato interrogato dall'FBI. Ciò che è emerso durante l'interrogatorio avrebbe dovuto far dubitare gli investigatori del loro buonsenso. Sì, Andrew sapeva benissimo che le sue operazioni ad alto rischio avrebbero colpito nel segno. Dopotutto, si trovava a 250 anni dal futuro. Se pensi che la storia non possa diventare più stravagante, ascolta attentamente. L'FBI non è riuscita a trovare alcun documento che provi l'esistenza di Andrew prima del 2002. Ma non è tutto. Poco dopo, l'autoproclamato viaggiatore del tempo è scomparso dalla scena e non è più stato visto. Coppa del mondo 1962 In un'epoca in cui i termini come sostituzioni e calci di rigore erano ancora parole straniere, 16 squadre nazionali si incontrarono in Cile per incoronare il nuovo campione del mondo di calcio. Oggi sappiamo che questo titolo andò al Brasile nel 1962. La Selesao riuscì a sconfiggere la cecoslovacchia per 3-1 in finale. Tuttavia, durante i festeggiamenti per la vittoria, è stata scattata una foto che ancora oggi lascia alcuni spettatori con le sopracciglia alzate. Mentre il giocatore brasiliano regge il trofeo verso il cielo, nella parte inferiore dell'immagine si vede quello che sembra un moderno smartphone. L'uomo sulla spiaggia. A proposito di smartphone, da tempo si sospetta che l'uomo, che si trovava sulla spiaggia di Owen, nella città inglese di Newquay nel settembre del 1943, sia un viaggiatore del tempo. A prima vista, però, la persona sembra tutt'altro che insolita e vestita esattamente come ci si aspetterebbe per gli anni 40. Tuttavia, si dice che tenga in mano qualcosa di molto simile a un telefono cellulare. Un rilassante giro di Candy Crush in riva al mare o semplicemente un uomo che si sta arrollando una sigaretta? Non esitare a scriverci la tua opinione su questa foto nei commenti qui sotto. Rudolf Fence. In una mite sera d'estate del 1950, alcuni passanti di Times Square a New York fecero una strana osservazione. All'improvviso apparve sulla scena un uomo vestito in modo strano, completamente disorientato nel bel mezzo di un incrocio. Ma prima che gli astanti potessero dire qualcosa, lo sconosciuto fu investito da un'auto. Esaminato il corpo poco dopo, hanno scoperto alcuni strani oggetti. Tralasciando l'abbigliamento atipico del XIX secolo, il defunto aveva con sé una fattura per il lavaggio di una carrozza, banconote obsolete, biglietti da visita e una lettera. I biglietti da visita mostravano che il nome dell'uomo era Rudolf Fence e sebbene la lettera recasse un timbro postale del 1876, sembrava essere stata scritta solo poche ore prima. Ulteriori indagini hanno rivelato l'esistenza di un uomo di nome Rudolf Fence e gli è scomparso senza lasciare traccia, esattamente nello stesso anno in cui era stata inviata la lettera. L'epoca Rudolf aveva 29 anni, un'età che corrispondeva perfettamente all'aspetto dell'uomo che era morto. L'incontro con Mike Tyson Perché viaggiare nel Medioevo o negli antichi egizi quando puoi fare una deviazione all'epoca di Mike Tyson? Questo è probabilmente ciò che ha pensato il presunto viaggiatore nel tempo quando ha assistito al ritorno del pugile dello scandalo il 19 agosto 1995. Il campione dei pesi massimi aveva trascorso gli ultimi tre anni dietro le sbarre. Dopo il suo rilascio affrontò Peter McNeely sul ring e all'inizio del primo round vediamo un uomo del pubblico che apparentemente filma i due avversari con un moderno cellulare. Possiamo solo sperare che il viaggiatore del tempo abbia acceso in tempo il suo smartphone dal futuro. L'incontro è durato solo 89 secondi. Il cronovisore Hai sempre voluto assistere alla crocifissione di Gesù? Osservare Napoleone nelle sue campagne o ammirare l'opera perduta Tiestes di Quinto Ennio? Nessun problema, tutto ciò che devi fare è immergerti negli angoli più segreti del Vaticano e dare un'occhiata al cronovisore, A patto che le dichiarazioni del sacerdote cattolico Pellegrino Ernetti siano vere ovviamente. Incredibile ma vero. All'inizio degli anni 90 il sacerdote ha affermato che la chiesa è in possesso di una macchina in grado di aprire una vera e propria finestra sul passato. Sviluppata presumibilmente con l'aiuto di Werner von Braun ed Enrico Fermi negli anni 50, si tratterebbe di una sorta di lunga teca con uno schermo CRT. In dettaglio, il viaggio ottico nel tempo sarebbe reso possibile dal cronovisore che riceve, decodifica e riproduce le onde elettromagnetiche lasciate dagli eventi passati. Sebbene Ernetti abbia poi confessato che la presunta foto del salvatore crocifisso era un falso, fino alla sua morte ha sostenuto che il cronovisore fosse reale. Il viaggiatore del tempo di Chaplin Nell'ottobre 2010, il regista nordirlandese George Clark ha mandato in subbuglio la comunità della rete. Ha pubblicato su YouTube una clip intitolata Chaplin's Time Traveler, in cui analizza il materiale bonus del film The Circus. Il DVD corrispondente contiene, tra le altre cose, alcune clip della prima del film e a un certo punto vediamo una donna che cammina nell'inquadratura tenendo uno strano oggetto all'orecchio. Clark ha dichiarato che si trattasse di una specie di telefono cellulare, e stiamo parlando dell'anno 1928, ricordalo. Mentre il video è stato cliccato milioni di volte e persino ripreso in alcuni servizi televisivi, la teoria del viaggio nel tempo ha raccolto sempre più sostenitori intorno a sé. Tuttavia, ci sono anche approcci che vorrebbero spiegare il materiale con i mezzi degli anni venti. La parte avversa fa notare che molto probabilmente qui vediamo solo una donna che utilizza uno degli apparecchi acustici portatili relativamente nuovi all'epoca. Sergei Ponomarenko Nel 2006, gli agenti di polizia di Kiev non potevano credere alle loro orecchie. L'uomo vestito in modo strano e con una macchina fotografica d'altri tempi sosteneva con sicurezza di essere nato nel 1932, eppure aveva solo 25 anni. La cosa si è fatta ancora più strana quando ha prodotto un passaporto sovietico degli anni 50, che corrispondeva effettivamente alle sue dichiarazioni. Nel dettaglio, il giovane Sergei Ponomarenko ha dichiarato che nel 1957 era intento a scattare alcune foto della città, quando il mondo intorno a lui è improvvisamente cambiato. In effetti, il modello di macchina fotografica che Sergei aveva con sé non era più stato prodotto dagli anni 70, ma ancora più sorprendente era il filmato che conteneva. Le foto sviluppate mostravano Kiev come appariva negli anni 50. Iscriviti al canale, ci sono molti altri video fantastici in arrivo.